Ben ritrovati, evento lieve distrattivo in zona puo-aduttori, è questo l'esito degli esami cui si è sottoposto oggi Loftus Chic. Ben ritrovati, commentate numerosi, iscrivetevi e lasciate un like. Quindi direi una buonissima notizia, una lieve distrazione, il giocatore non ci sarà con il Dortmund, credo che non ci sarà neanche con il Genoa, però ecco dopo la sosta sarà disponibile. Verrà monitorato quotidianamente, qualcuno dice addirittura già sabato col Genoa, mi sembra forse un po' presto, in ogni caso che al Milano il cuore può tirare un bel sospiro di sollievo perché insomma poteva essere molto peggio, non si sottoporà neanche ad altri esami, verrà monitorato quotidianamente, quindi una volta che gli passa il dolore non dovrebbero esserci più problemi. Alla zona pubo-aduttoria, una leggera distrazione, quindi qualcosa da poco. Ricordiamo che dopo la sosta tra tre settimane il Milan avrà Juventus, PSG in Champions e Napoli. Quindi una settimana tosta in cui l'Office serve e come. Una buona notizia, anche perché di fronte invece a delle lesioni si sarebbe parlato minimo di tre settimane, se non di più a seconda dell'entità, ne parlavamo anche ieri della lesione. Invece il problema è di Dave Conte, quindi una buonissima notizia per il Milan, che domani avrà in conferenza stampa alle ore 19 italiane. Ciao con Pioli, ciao che torna in Germania contro Borussia Dortmund. Milan giocherà mercoledì, ricordiamo, alle ore 21. Senza l'Office, con Musa, Renders e Povega dovrebbe essere questo il centrocampo a tre. Vediamo l'evoluzione ovviamente quotidianamente e mi raccomando, scatenatevi qui sotto con i commenti, non l'ho detto in apertura, iscrivetevi qui, ci teniamo tanto, lasciate un bel like, commentate e provate a vincere anche la maglietta di Meignan autografata, qui sotto ci sono le istruzioni, per provare a vincere tutto gratuito, scaricare l'app di numero 10 da questo link, seguire su Instagram mbmaglie che mette a disposizione una maglietta e terza cosa, iscrivervi al nostro canale YouTube. Mando un abbraccio a tutti, dunque, lieve distrazione alla zona puboduttoria per l'Office Chic, direi una buona notizia per il Milan, che temeva di perderlo più a lungo. Un abbraccio, ci vediamo presto, ciao!